Riccardo Marcuzzo Riccardo Marcuzzo a lavoro sul secondo album, Foto Riccardo Marcuzzo in studio di registrazione per il nuovo disco. Ha vinto Amici, per la categoria del canto, Riccardo Marcuzzo è la protagonista dell'estate musicale italiana. Il suo album d'esordio, Perdo le parole, è il più venduto di questo 2017. Un esordio con il botto per il cantante proveniente dalla scuderia di Maria De Filippi. Erano anni che il talent show, tutto made in Mediaset, non riusciva a scoprire un cantante in grado di ottenere tale successo a livello di vendite. Un bel traguardo, questo, sia per Maria De Filippi che per lo stesso Ricky, questo è il nome con cui amano chiamarlo i suoi fan. Ma Riccardo Marcuzzo non ha nessun'intenzione di fermarsi. Ha da poco annunciato, sul suo profilo Instagram, di essere al lavoro al suo secondo album che vedrà luce a breve. Ma non solo, Ricky non ha soltanto comunicato ai suoi fan di essere attualmente in uno studio di registrazione, ha approfittato dell'occasione per ringraziarli per il loro prezioso supporto. Riccardo Marcuzzo lavora al nuovo album, Foto. I due vincitori di Amici, Andrea Snüller e Riccardo Marcuzzo sono stati di nuovo insieme in questi giorni d'estate. Era dalla finale del programma che i due non riuscivano a trovare un po' di tempo da trascorrere insieme, ma dopo tutto sono entrambi impegnatissimi. Ricchi è in studio di registrazione per completare il suo secondo album. Si cresce sempre e continuamente, sempre in alto e sempre insieme scrive il cantante di Perdo le parole, dedicando queste dolci parole al pubblico dall'inizio del talento Amici lo segue con affetto. Manca poco all'uscita del suo nuovo album. Riccardo Marcuzzo sarà in grado di replicare nuovamente il successo ottenuto con il suo album di debutto? Non ci resta, come al solito, che pazientare ancora un po' per avere una risposta a questa domanda.